Serata d'estate un po' particolare, siamo tra i melograni in fiore di Melograni Martino e all'ombra di una luna c'è una bravissima arpista che sta suonando l'arpa. Vedete, siamo in aperta campagna dai melograni Martino e tra poco vi racconto bene che cosa sta succedendo. Intanto andiamo a riprendere le sue belle mani. Come ti chiami? Eleonora Carbone. Eleonora Carbone, bravissima. E segue una musica di Morricone, giusto? Come si intitola questo brano? C'era una volta il West, famosa colonna sonora di un famosissimo film. Vediamo questa musica adesso, che cosa avvolge. Siamo da Melograni Martino, questa è la casa delle api dove i bambini vengono a studiare il ciclo della vita la mattina. E sulle note di Eleonora Carbone che esegue, c'era una volta il West di Morricone, andiamo a curiosare per vedere che cosa sta succedendo qui in questa prima sera d'estate. Vi devo fare una sorpresa, vi faccio vedere che cosa abbiamo appena fatto noi. Ecco, allora. Vedete, qui si è appena svolta una bella cena all'ombra, dei melograni in fiore, comitive, famiglie. È stata un'esperienza veramente unica, bellissima, abbiamo mangiato bene prodotti di prima qualità. Vedete, i bambini giocano liberi, le famiglie li possono lasciare in modo spensierato, perché qui i pericoli non ce ne sono. Loro fanno amicizia, si divertono e ci saranno degli eventi d'estate, al momento in giugno, uno a settimana e a ferragosto ne saranno tantissimi di più. Per ferragosto, cioè per agosto, per luglio e per agosto, naturalmente si incentiveranno questi eventi che piacciono veramente tanto e sono veramente degli eventi da vivere. Ecco, qui ci sono proprio i melograni.